è già la quarta volta che viene qui, è una B2E, dai Eros, 50% Enki ragazzi, trancio classico e il resto biga, voi immaginatevi i sapori, i profumi e la sofficità mamma mia, buonissimo, ha un profumo, processo micidiale ragazzi, una new entry tra l'altro questa fatta apposta per Eros, un processo fatto apposta per fargli vedere una nuova modalità di trancio, classico, eccolo qua, 50% Enki, non so se mi spiego, ciao Eros, ciao ciao vai, sentiamo il crunch, eccolo, ah, chi diceva che faceva fatica a sviluppare, guardate qua, 30% integrale, com'è? Ragazzi, la vita è troppo breve per mangiare pizze pessime venite a imparare, esatto, la vita è troppo breve per non venire da Giova Pizza, ciao Andrea, vai Andrea, olia, la prosciutto e funghi, vai, anche i cornicioni, cornicioni, bravo, fai il perimetro, più perimetro, bravo, va bene, e vai, aspetta e facciamo vedere la struttura, ragazzi, forno di casa, eh, forno di casa, teglia romana, Donatello, testimone che forno di casa. Lo posso mangiare? Vai! Non fare il timido. Spettacolare. Vai, va che volatura. Oggi corso con Francesco, è Valentina, però la voce ce l'avevo. Sì, sì, la voce è buona. Ma direi questa è la terza che mangio, ancora non ho capito bene, devo assaggiarne un altro pezzo per... Francesco, penso, stia esagerando, ma visto che abbiamo fatto l'impasto... ingeribile? Sì, un'altra. Dai, te la stacca il video, passa un altro pezzo. Sassicci e funghi, ciao! Ciao, ciao! Teglie e chi più ne ha le metta con Mattia, buchi pomodorosi in diretta. Mattia, cosa ne pensi? Fantastica, veramente, non ho parole. Mattia, non so se lo conoscete, ma non è proprio l'ultimo arrivato. Insomma, qualche focaccia la sa fare. Questa cosa secondo me è allucinante. Imparagonabile. Sono contento che concordi. Ti ho scopito anche sto. Sì, sei riuscito, sei riuscito. Ora, col 10% di integrale, Gigi, scusa, puoi confermare che è stata fatta nel forno di casa? Guarda, è una cosa stupenda, fantastica. Forno di casa incredibile. Fai, vediamo, vediamo queste strutture. Vai di crunch, facciamo sentire una cranciata, vai. Guarda, eh. Tela lì. No, perché ho letto qualcuno che una volta mi fa, eh, ma non è possibile avere questo risultato nel forno di casa a 250 gradi. Qualcuno non capisce proprio niente. Te capis da gol. È proprio incredibile. Complimenti, Gio, grande. Complimenti a te che sei venuto. Grandissimo. Buon appetito, Gigi. Grazie, grazie. Ciao, che è venuto da Firenze in trasferta. Andrea, buongiorno. Mi fai vedere questa sezione? Allora, ragazzi, qua c'è un 20% di anchire. Me lo fai un crunch in diretta? Ma sono più stioni, però. Mi fai del male. Eccolo. E mentre Andrea recupera il palato molle. Ciao. Ciao. Com'è? Eh, adesso ve lo dico, mi ha segnalato ma è buona. Diretta. Scrocchia. Scrocchia. Eh, sì. E l'ha fatta veramente Giovanni, lo confermo. Non vediamo. Ho visto io. Ciao. Ciao a tutti. Dov'è? Guardala lì. Com'è Marco? Eh, tanta roba davvero. Mamma mia. Vai di crunch, vai di crunch. Aspetta. Oh. Mamma mia che gusto, ragazzi. Provatela. Vai Marco, Marco è qui con me. Oggi e domani farà teglia e focaccia. E voi guardate. Ce l'ho. Salsiccia, cipollotto di Tropez, erbe aeronatiche. Corsista dalla Normandie oggi, Junior. Che se la scrocchia. Adesso me la scrocchio anch'io. Ciao Belli. Veneto doc. Sì, Venezia. Veneto di Venezia. Sì. Soddisfatto, Lessanna? Sì. Soddisfattissimo. Allora, facciamo una ripresina del crunch. Io tengo il cellulare. Tieni meno il dettino quale. Facciamo clic. Il dettino qua. Qua. Bravo. Anzi no, si fa in mezzo. Tieni di qua. Ok. Non vorrei tranciarti, metto un pollice, però è un peccato. Pronti? Pronti? E questa sarà cucca lale. Poca roba. Voilà. Vado. Ah vai, sentiamo il crunch. Noi continuiamo, capiamo di che parlare. Voi continuate ad aspettare a dirmi di venire a fare i corsi. Poi vi dico di venire nel 2021. Ciao. Non so. Lo facciamo vedere in fretta. Ciao Vincenzo. Sono poco fotogenico. Guardate che robina, eh? Margherita. Forno di casa. Scusa se te la tocco, Vincenzo. Vai, vai. Abbiamo fatto il corso HCCC. Sì, esatto. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Un Jonathan. Come va? Eh, la pizza mantiene tutto quello che mi avevi promesso. Ottima. Meravigliosa. Non dico balle, allora. Voilà. Questa è una patata e salsiccia, ragazzi. Ah, giusto per dire, è arrivata una certa cosina. Poi ve la faccio vedere, eh. Poi ve la faccio vedere. Vabbè. Ciao, ragazzi. Venite. Com'è? C'è Manuele che è spettinato. E si è permesso di venire a fare il corso in napoletana senza la riga a destra. Com'è, Manuele? Che dici? È meraviglioso, ragazzi. Siamo al top. Top del top. Allora, ragazzi, qui siamo al mio solito 48 ore, 24 più 24, che le solite scimmie urlanti mi dicono ma perché fai 48? Perché è comodo. Non perché serve a questa cosa. Guardate i cornicioni che roba. Siamo neanche al 70 per cento e siamo a 65, 66. Guardate che gommoni. Ce la pappiamo. Fantastica, assolutamente. Vai. Ciao a tutti. Ciao a tutti. e salsiccia. Spettacolo. Eccoli lì. E li facciamo raffreddare un po', sennò perdiamo il palato. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.